Salve amici, chi mi conosce sa perfettamente che io mi sto interessando di ebook da molti anni, è ben dal 1996 che io ho cominciato a sperimentare il discorso del libro elettronico convinto sin da allora che la prospettiva per l'editoria media, piccola e piccolissima ma anche per l'editoria in generale sarebbe stata quella del libro elettronico, della diffusione dei contenuti online e che il libro tradizionale sarebbe sempre più diventato una realtà editoriale più settoriale, più di nicchia, più raffinata ma comunque la grande diffusione della comunicazione, della lettura sarebbe avvenuta attraverso l'ebook e il libro elettronico. Chi mi conosce sa perfettamente che dal 1996 che attraverso simonel.com, il mio sito istituzionale, ho cominciato a diffondere ebook in formato pdf, allora scaricamento gratuito, nel corso degli anni ne sono state scaricate decine di migliaia di copie, poi sa che ho proseguito lungo questo discorso sperimentando tutte le varie metodologie della realizzazione dei libri elettronici, si parli della metodologia australiana che è il DNL che consente di generare dei file che danno l'impressione della pagina di un libro che si sfoglia, che però ha da sempre il limite di essere una tecnologia operativa soltanto in ambiente di PC, in ambiente Windows e io e la mia filosofia sin dall'inizio è quella di rivolgermi ad un pubblico il più vasto e il totale possibile, mettermi dalla parte del lettore finale e quindi offrire dei prodotti che possano funzionare su qualsiasi tipo di computer e su qualsiasi tipo di sistema operativo, ho sperimentato poi e ho realizzato ebook in formato lit, cioè quel formato portato avanti dalla Microsoft attraverso il suo lettore Microsoft Reader, ho sperimentato gli ebook per Palm in formato PDB e così via e nel corso degli anni ho acquisito una grossa esperienza e un grosso know how, ho realizzato anni fa nell'ambito del progetto di 365 giorni in fiera la libreria internazionale degli ebook e poi nel 2004 ho deciso di andare avanti esclusivamente come Simonelli editore in partnership tecnologica con Golem 100 fondando ebooks Italia, ebooksitalia.com che resta la prima e l'unica libreria di libri elettronici di varia, cioè di narrativa, saggistica, poesia eccetera, non di libri elettronici esclusivamente prodotti da Simonelli editore ma prodotti da tutte le altre case editrici che vogliono utilizzare la piattaforma di ebooks Italia per entrare nel mercato del libro elettronico ad investimento praticamente zero e ce ne sono già varie di case editrici che stanno producendo e vendendo ebook attraverso ebooks Italia. Quindi credo che nell'arco degli anni di aver maturato un importante know how e molti mi riconoscono questa professionalità. Certamente non sono stato sul palcoscenico, nell'arco di tutti questi anni ho pensato a lavorare, a produrre secondo la mia logica di una persona che fa poco teatro e fa molta sostanza. Naturalmente nel momento stesso in cui i libri elettronici cominciano ad avere una certa fibrillazione e cominciano a dimostrare che siamo forse alla vigilia di quello che io avevo immaginato che sarebbe accaduto nel 1996, sin dal 1996, ecco che spuntano gli esperti dell'ultima ora, i quali starnazzano molto, vanno molto in palcoscenico, fanno delle dichiarazioni di presenza sul mercato, di chissà quale presenza sul mercato e in ogni modo arrivano i solidi italiani i quali cercano di dimostrare una competenza ed una professionalità che per carità potranno avere, ma che mi si deve riconoscere non può essere pari a quella di chi opera e conosce il problema degli ebook in tutte le loro sfaccettature, in quello che funziona e in quello che non funziona, avendolo sperimentato sulla propria pelle. Perché io faccio questo discorso? Lo faccio semplicemente per rivendicare in un'Italia la quale non nota e non sottolinea la competenza, ma sottolinea l'apparenza, rivendicare che ci sono anch'io, signori miei, ci sono anch'io con la mia competenza anche se non faccio troppa apparenza. Arrivederci, alla prossima! Autore dei sottolinei Autore dei sottolinei